Il Sindaco Francesco Mastromauro ed io siamo costantemente in contatto con la Prefettura. Il Sindaco sta seguendo perfettamente H24, quello che riguarda la tematica della protezione civile. Voglio annunciare che, come molti sanno, un'attenso struttura della Croce Rossa di Giulianova è già presente a Norcia dalla notte scorsa. Per quanto attiene l'accoglienza, il Comune di Giulianova ha da subito dato in tempo reale la disponibilità di 186 camere, che sono diventate 294 oggi e domani mattina saranno a regime oltre 700 camere. Ecco, non sappiamo se ce ne sarà bisogno, ma obiettivamente questo noi stiamo facendo e ci sentiamo di fare perché vogliamo dare il nostro contributo al massimo livello possibile e la nostra città è perfettamente in grado di farlo. Grazie a tutti.